C'era una volta un'antica cioccolateria di Torino in cui lavorava un vecchio lupo di mare, il Capitano Rosso. Franco, per gli amici, dopo aver navigato per tanti anni attraverso tutti i mari di cioccolato, da quello fondente al cioccolato al latte, uno bianco all'inesplorato cioccolato rosa. A un certo punto è deciso di riportare la sua nave fatta di cioccolato in porto e affidarla ai ragazzi della Nida. Tutto questo per caricarli a bordo e ripartire per un nuovo lungo ed emozionantissimo viaggio in compagnia di tanti piccoli nuovi amici. Covipino USA 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. La vita è davvero importante per noi. Il cioccolato buono è più difeso. Grazie a tutti.